E' l'ultima prima di Natale, anche se Natale arriverà fra un mese e mezzo. Il calendario ha voluto così, c'è il Mondiale, ma questa sera c'è solo ed esclusivamente. Milan-Fiorentina, forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Polla dentro per Giroud, è partito Leao, è partito Leao, è partito Leao, è partito Leao. Goal! Raffaele Leao! Meraviglioso subito! Raffaele Leao! Subito gol! Subito gol! Goal! Raffaele Leao! Milan innescato, la piazza alla sinistra di Terracciano, Raffaele! Arriva in porta la Fiorentina, palo, palo dei Viola, l'amoroso palo dei Viola. Ecco il cross molto alto, il palzo di testa, poi arriva il Milan a deviare e c'è ancora Ben Nasser. Si salva il Milan, a terra un nostro giocatore ma si continua a giocare. la deviazione di Tata. Ecco Icone contro Teo, Icone, Icone, da palla dentro, ci arriva Venuti, la mette in mezzo, piattone, via la palla Sandro ti prego, la tiene Baracca e poi va dentro, maledetta. Passa attraverso Mille anche, passa sotto Mille anche, poi entra. era una palla da buttar via, palla da buttar via sempre. Ben Nasser dentro per Olivier, 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 Brahim, 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 Brahim. Rafa, 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 Rafa se ne va, Rafa mette in mezzo il colpo di testa, la rovesciata. Incredibile la rovesciata di Giroud. Servito di Quaterzic, vai Serginio ti prego, Serginio d'Esta, il colpo di testa, Icone è libero. Salva sulla linea Fichtomori, gigantesco, gigantesco Fick, gigantesco Fick. L'allargo ancora per Aster, piano col cross Aster, piano col cross Aster, palla dentro, Rebic, portavolta. Gol, 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 è entrata ragazzi, è entrata, è finita, è finita, 2 a 1, la magia dell'ultima, dedicata da Ivan Gazzidis. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, l'aveva detto il mister, non è vero che non abbiamo fame, non è vero. Bellissimi tifosi rossoneri, 2 a 1 per noi, brava la Fiorentina che ha giocato un'ottima partita. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, buon Natale, ciao.